Youtube Youtube io volga tutte quelle parole faccio una domanda su Youtube che cos'è? non lo so non lo so Youtube se lei mi parla in inglese io quando ho necessità vado a vedere sul vocabolario Youtube praticamente trasmette tutte le cose che avvengono nel mondo le mette come video su internet un giro il urbano è un'osservata